L'austriaco Christian Hirschbühl si è giudicato il City Event, lo slalom parallelo di Coppa Europa in notturna che si è disputato sulla pista Can Ross a San Vigilio di Marebbe, perfettamente innevata alla pari della pista Erta, dove in mattinata si sono disputate le qualifiche. Appena diciannovesimo sulla Erta, Hirschbühl ha recuperato posizione su posizione, facendo prima strage di scandinavi, eliminando nell'ordine il norvegese Lisdal, lo svedese Johansson e il finlandese Rasanen. Giunto poi in semifinale, il 23enne austriaco ha avuto la meglio anche sul favorito della vigilia, l'altro svedese Hargin, vincitore dello slalom di Coppa del Mondo di Kitzbühel lo scorso gennaio e cinque volte sul podio nella massima serie. In finale Hirschbühl si è trovato di fronte il germanico Linus Strasser, che già si era in posto nel parallelo Marebano del 2013, ma che stavolta si è dovuto accontentare della piazza d'onore. Nella finale per il terzo posto, Hargin ha rimediato il podio, superando il finlandese Hentinen. Purtroppo dei quattro azzurri che si sono qualificati per il parallelo notturno, nessuno ha superato gli ottavi di finale. Fabian Bacher, unico alta ottesino in gara, si è fermato ai sedicesimi, alla pari del fassano Federico Liberatore, mentre sono riusciti a disputare un turno in più Giordano Ronci e Tommaso Sala. Il vincitore, oltre a portarsi a casa i punti di Coppa Europa, è stato premiato con 2.000 euro, messi a disposizione dagli organizzatori della manifestazione, capitanati dall'innossidabile Willi Kastlunger. Il resto del Montepremi è stato distribuito tra i migliori atleti piazzati, purché non partecipanti alla Coppa del Mondo.